Oggi la Commissione Provinciale di Vigilanza dei Pubblici Spettacoli è attesa a Selvapiana per la seconda volta nel giro di due settimane. Ricordiamo che nella prima la Commissione ha accordato una capienza massima di 4.000 spettatori. Oggi l'auspicio è che ci possa essere l'ampliamento dello stadio fino a 7.500 presenze in attesa della prossima gara a Casalinga, domenica 26 settembre contro la Fidelissandria. Parlando di campo, il Campobasso sta affinando le armi in vista della trasferta in programma a Castellammare di Stabbia, al Romeo Menti, campo in erba sintetica, si gioca sabato in anticipo alle 17.30. Le Vespe, questo è il soprannome della squadra campana, hanno cinque punti in classifica, due pareggi, uno dei quali in casa contro l'Avellino, ed un successo maturato domenica scorsa a Vibo Valencia con il finale di 3-1. Alle dipendenze di Novellino, una squadra che ha veleità di alta classifica, dall'esperto centrale Tonucci doppietta per il capellone nell'amichevole giocata a Silvapiana ad inizio agosto, all'argentino metronomo Nicolas Schiavi, al talento di Bentivegna, sino all'esperienza degli attaccanti panico ed evacuo, quest'ultimo arrivato sul gong del calciomercato. Nomi importanti per la categoria, un collettivo davvero pronto a beleggiare nei quartieri altissimi della classifica. Dal canto suo, il Campobasso andrà dritto per la sua strada, un sentiero fatto di idee precise ed etami tattici, preziosamente acquisiti dopo anni di lavoro con mister Cudini, almeno per il buon 80% della Rosa. Il Rosso Blu, con il successo maturato a Viterbo contro il Monterosi, hanno guadagnato la possibilità di giocarsi un bonus nella tana degli Stabiesi. Al cospetto di queste squadre, il Campobasso dirà la sua, ne siamo convinti, poi il campo sarà il sovrano nel decidere gli esiti della contesa. La squadra gioca bene, l'entusiasmo è alto e la condizione atletica è increscendo. Mister Cudini, oltre all'Adu, ancora out ma sulla strada del recupero, e Fabriani, seconda giornata di squalifica da scontare per il terzino, deve rinunciare all'attaccante Parigi. La prima punta ha accusato un problema muscolare durante la seduta di allenamento. Per il centravanti potrebbe trattarsi di uno stiramento ai flessori e se la diagnosi dovesse essere confermata, Parigi sarà out minimo 20 giorni. Si va verso la conferma della squadra che ha annichilito il Monterosi, con la conferma del tridente Liguori-Rossetti di Francesco. Quest'ultimo in ballottaggio con Emmausso per un duello serrato che sarà sciolto dal tecnico solo poche ore prima del match. Sbardella occuperà il ruolo di terzino destro, Tengorang confermato in mediana. Importante la crescita della giovane Mizzala al terzo anno con la maglia Rosso-Blu. Un ragazzo affidabile che sta meritando la maglia da titolare. Previsto infine un buon esodo dei tifosi Rosso-Blu in quella che è una delle trasferte più vicine a livello chilometrico di tutta la stagione. Chiosa sulla Coppa Italia. Ieri in campo le squadre di C per i sedicesimi della manifestazione tricolore. Per le squadre del raggruppamento C, l'Avellino a sorpresa ha perso in casa 1-0 contro l'Ancona Matelica. Successo per il Palermo che in casa ha superato 2-1 il Monopoli, staccando così il pass per le ottavi di finale. Vittoria per il Foggia che ha superato allo Zaccheria il Messina mentre Cananzaro Catania è terminata 1-0. Infine la Fidelisandria ha superato il Francavilla 2-1.